Ciao a tutti ragazzi, qui c'è ancora Nolez, oggi sono qui su FIFA 15 e veniamo subitissimo a fare una partitona Allora andiamo a usare, io direi visto per stare in tema, di andare ad usare la nostra nazionale A cui vogliamo tantissimo bene, però siamo arrivi contro l'Albania ma non ce l'abbiamo l'Albania qua da quanto ho capito Quindi andiamo a farci non lo so, Spagna, via Ok, e partiamo subitissimo Olè ci siamo, carichissimi, andiamo a sfondargli il culo Proprio con la finezza, quando c'è la finezza c'è tutto Offensiva, cosa cazzo sto facendo? Partiamo benissimo Ok, 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 voglio recuperare la palla, voglio recuperare la palla Come sapete sono fortissimo su FIFA, sono il più bravo di tutti Infatti non me la stanno già buttando nel sedere, dopo 5 secondi di partita Sono bravissimo quindi capitemi Imparerò, dai raga No, 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 no No, 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 madonna che assist gl'ho fatto È stato bravissimo Scusi, la palla, signore, mia Andiamo, andiamo Ti trollo, ma con quale velocità? Oddio, oddio No, no, no Voglio rubartela Voglio rubartela Voglio rubartela Olè Mo si che ti ragiona Te l'ho allungata Te l'ho allungata tantissimo Ma dai Kerga lo schema Lo schema ad F Cos'è Finchè spazzano va bene Ok Con calma Ma quanti sono in difesa? In dodici Tira No no Lo volevo provare da lì Oh Uuuuh Di pochissimo Dai Il primo tiro è andato bene Non è proprio andato benissimo Perché Per essere andato bene Doveva entrare La mocchiata Da un'orgia Il wrestling Non è FIFA Oh La mia mia Sembra quasi di giocare Con Ronaldo In attacco Ok Chi la passo a te? Vai Buonaventura Rossi Uomo con i migliori tatuaggi del mondo Fallo È fallo Arbitro 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 moreno Lo sapevo io ci trovavamo l'arbitro moreno contro Guarda qua immobile L'uomo che si è autodefinito Un ignorante E ci piace un sacco Andiamo Andiamo No Che infiltramento avevo fatto Quasi Gli ho passato a mia nonna Volevo un pallone Ti ricordo Guarda No Marchisio Fortissimi La migliore risultanza di sempre Fammela fare Guarda Di la curva Immobile Dopo mezz'ora di gioco Ci troviamo già sull'1 a 0 Quanto è forte questo Nolez Lo sa solo Lo sa solo lui Che si fa scartare così Fermo Polizia Ok Carico Carico Proprio andiamo su sulla fascia E crossiamo in mezzo Come i più forti di tutti a FIFA No Che cazzo di inserimento schifoso Fermo No dai Come cazzo ha fatto No 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 Minchia GG Mi stavi ammazzando Fantastico come su FIFA 15 Appena ti toccano dentro Fai dei voli allucinanti No 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 Uh No Ehi Arbitro Mi ha fatto un archeio Ok Ok proviamo 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 la punizione La punizione Proprio nell'angolino Perfetto Maggia mia mia Salto di più Guardalo Come si infilano Come si infilano Tiro da fuori No No Quella Calcio d'angolo Mi sa che è l'ultima azione Prima del Dell'intervallo Vediamo che devo andare a fare la merenda All'intervallo Com'è me l'ha preso Mezzo la testa E mo fischerà Non fischia Perfetto Fanno ancora tempo a farci E invece Guardali Infilo Eh Dovete trovare indietro Io comunque Minchia meno male Pensavo di averli fatto un fallazzo Dai 1-0 al primo tempo Direi che stiamo andando abbastanza bene Rispetto Alle mie Grandi abilità In questo gioco Che sono Quasi pari a quelle degli altri giochi Ovvero nulle Ok Che dribbling Eh Manco i Più bravi Mamma mia Con una potenza di tiro allucinante Resultanza più bella di tutte Se ne va a dormire in un angolino Mentre gli altri lo speffeggiano E immobile Doppietta Subito dopo la ripresa Vediamo se riusciamo ad andare a farne Oddio Ma partono subito a scanno Appena gli faccio Gli fanno un sacco paura No Ho sbagliato tasto Ostia Mannaggia Mannaggina Mannaggetta Oh Non buttatemelo fuori Per favore Non ha fatto apposta No 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 Difesa 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 La prendo Non la prendo Oddio Bravo Gigione Bravo Guardalo lì No Martellino giallo Eh non si è dimenticato No È passato tipo un quarto d'ora Nel gioco Ma fa niente No Devo Aumentare un po' l'abilità Nel recuperare i passaggi Recuperare i passaggi Cazzo stai dicendo Recuperare le palle Ok Stiamo andando avanti Nella maniera più stupida possibile Ma Ma no Ma che Con quale rimbalzo Ma io non cambio nessuno Squadra che vince Non si cambia Forse non è proprio Questo il caso In cui si usa Ma fa niente I detti popolari Ma Non sempre No Mia No Non mi Non ci interessa Chi entra Eh Che blocco Rischiamo di prendere gol Così raga Andiamo a mettere il pressing Guarda Pressing alto Sembro un pro No l'angolo Guarda che tenere Che gli passano anche la palla Adesso Poi quel fair play Che non si è visto mai Nella vita Oh Oh piché Calmino eh Shakira non ti basta Vuoi anche me adesso Maiolono Andiamo Con una serie di passaggi Che manco il Bayern Proprio Guardalo No Come che Ma l'ha fottuta così Proprio senza neanche chiedere Proprio un minimo di rispetto Ma Prendila la palla Sono agitatissimo Ragazzi Se prendo gol Faccio Una figura di merda Oh oh Pregattolo rosico Come uno stronzo Ma guarda che mi si incastrano i giocatori Guarda lì No Devi passarmela a me Guarda che si è spaventato Guarda che si è spaventato Oh infatti ha sbagliato Perfetto Vai Gigi Su 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 Andare a mettere Il 3 a 0 La tripletta di immobile vogliamo Qua ci sta Filtrante alto Il filtrante alto Ma cazzo No Con quali numeri da circo C'è il cambio Per la Spagna Frega cazzi La infila lì La infila lì Ma che cazzo fai Gran tiro Dice anche gran tiro Pensate Olè Andiamo Vado io Faccio tutto io No Che cazzo Ok scusate Non lo faccio più Appasso la palla Ostia No 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 Difendo Difendo Uh e la para La mura Palla volo Fuori gioco So A finezza A finezza Guardalo lì Che passaggi Che calcio champagne Proprio Calcio Proprio la cola Del discount Quella da 30 centesimi In 6 litri Quale costa meno Dell'acqua Che cazzo Sarà fatta No Perché me la rubano Sempre all'ultimo Non so fare un cazzo Ma oltre a quello No 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 Dai Arriva un treno E finisce così la partita Beh dai ragazzi Il record è andato male Un 2 a 0 Per uno scarso come me Che di solito perde 18 a 0 Più o meno E presto probabilmente Arriverà anche una serie Su FIFA Quindi Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Commentate E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 ciao